ciao amici bentornati su festecompleani.com io sono il vostro mister nani e oggi sono particolarmente contento perché verrà a farci visita un mio carissimo amico si tratta del dottor bruce banner voglio darvi un consiglio lui è un bravo ragazzo solo che quando si arrabbia non è molto carino pensate che una volta uno gli ha fatto uno scherzo si è trasformato nell'incredibile Hulk e ha spaccato tutto quanto quindi voglio preparargli un bel regalo perché non prepariamo un piccolo Hulk fatto con i palloncini e speriamo che non si arrabbi cominciamo subito con le braccia del nostro incredibile Hulk prendiamo un palloncino di colore verde e facciamo due palline con la torsione ad orecchio per il pugno due salsicce per il braccio e le dividiamo con una pallina ad orecchio per il gomito useremo un'altra pallina per fare la spalla vediamo subito come realizzare questa scultura a 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 con a 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 wow che muscoloso sembra quasi più muscoloso di me va bene continuiamo con il nostro Hulk ci manca solo la testa prendiamo un pezzettino di palloncino verde facciamo una torsione ad anello della larghezza di quattro dita e per fissarla una pallina con la torsione ad orecchio dopodiché la infiliamo in mezzo a queste due salsicce ritagliate la faccia su un pezzettino di cartoncino verde disegnate gli occhi e attaccatelo con la colla e è proprio forte questo incredibile Hulk amici vi ricordo che sulla nostra pagina youtube feste compleanni potete trovare tutte quante le nostre playlist in questo caso troverete la playlist con tutte le sculture dedicate ai cartoni e ai film sicuramente troverete anche l'incredibile Hulk amici per oggi è tutto un saluto dal vostro mister nani e dall'incredibile Hulk